Subito un agente a tempo indeterminato. Altri quattro invece con caratterizzazione stagionale presteranno servizio per sei mesi. E' già chiara la strategia dell'amministrazione comunale di Tortoreto che ha deliberato di recente e fa bisogno di personale per l'anualità 2022 che prevede il potenziamento della polizia locale con cinque nuove assunzioni. Uno a tempo indeterminato, quattro per un semestre che coprirà anche il periodo di maggiori incombenze, che è quello estivo. Agenti che andranno a potenziare l'attuale dotazione organica che conta su nove figure indivisa. Ma il nuovo anno sarà caratterizzato anche da un'altra importante novità. Gli agenti saranno armati e proprio in questi giorni sono in via di completamento gli atti propedeutici per dotare la polizia locale della pistola d'ordinanza. Abbiamo approvato la pianificazione del personale per quanto riguarda la polizia locale per l'anno 2022, introducendo subito l'assunzione di un agente a tempo indeterminato e a tempo pieno, cosa necessaria vista ormai la necessità di maggiori controlli e monitoraggi del nostro territorio, anche vista la crescita della comunità e della collettività. Inoltre abbiamo introdotto per quanto riguarda i vigili, quelli denominati stagionali, l'assunzione di quattro unità a tempo indeterminato per sei mesi. Questo secondo noi ci permetterà di non avere criticità nell'assunzione dei vigili estivi, invece una programmazione più concreta. Si procederà sempre con attenzione nei confronti della polizia locale proprio perché ormai è un corpo importante per la sicurezza della nostra collettività. C'è stata una contrattazione sindacale anche sul terzo turno e sull'armamento, abbiamo però avuto poi la condivisione su questo obiettivo. Il percorso è stato abbastanza lungo perché la normativa prevede anche una formazione che è assolutamente necessaria per i nostri agenti per procedere all'armamento, prevede anche un regolamento che è stato aggiornato e che verrà riaggiornato perché ovviamente ci siamo confrontati anche con il Ministero, proprio perché è una procedura nuova per la Comune di Tortoreto ma sicuramente importante per procedere con il terzo turno.